Svolta nelle indagini sul naufragio di Lampedusa, fermate 5 persone. Mafia, raffica di condanne nel clan Deilo Piccolo. Precariasu, trovato l'accordo tra Crocetta e i sovrintendenti. Buonasera e ben trovati all'edizione di Media News di martedì 1 luglio. Associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione e della permanenza clandestina aggravati dal carattere transnazionale del sodalizio malavitoso. Fermate 5 persone nell'ambito delle indagini sulla strage di Lampedusa del 3 ottobre dello scorso anno. La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione Glauco sulla strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando morirono 366 migranti, ha fermato 5 persone in varie città d'Italia, mentre altre 4 sarebbero ricercate. Le indagini hanno fatto scoprire agli investigatori continue violenze fisiche e reiterate torture che hanno subito numerosi migranti, nonché ripetuti stupri anche di gruppo in cui sono state sottoposte diverse donne. Due indagati sono in Africa, uno in Svezia e il quarto a Roma. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi ci sono un cittadino etiope e uno sudanese, ritenuti da tempo tra i più pericolosi e importanti trafficanti di migranti. In particolare è emerso che quest'ultimo aveva il ruolo di raccogliere a Khartoum, in Sudan, una consistente parte di migranti che venivano trasferiti, spesso con modalità vessatoria a Tripoli, in Libia, dove l'altro, dopo averli tenuti segregati in diverse abitazioni di cui ha la disponibilità, li faceva imbarcare su natanti fatiscenti diretti verso le coste siciliane. Le investigazioni hanno consentito, dice la Polizia di Stato, di individuare una cellula della medesima associazione criminale, composta da cittadini eritrei, operanti in Italia, in particolare nelle province di Agrigente e Roma, che favoriva la permanenza illegale di migranti clandestini sul territorio nazionale e ne agevolava il successivo espadro, sempre illegalmente, verso altri paesi dell'Unione Europea, in particolare Norvegia e Germania o del continente americano, tra tutti il Canada. E' approdata all'alba di oggi, nel porto di Palermo, la nave mercantile Mar Atlantic, battente bandiera delle isole Marshall, con 235 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Tra di loro anche 25 donne, una delle quali incinta e 4 minori. Al porto di Catania, invece, è giunta la nave della Marina Militare Orione, con a bordo 396 immigrati salvati durante le operazioni Mare Nostrum, tra le coste libiche e Lampedusa. Si sospettava un caso di Vaiolo, a bordo delle carrette di migranti, che in queste ore sono sbarcate in Sicilia, ma l'allarme sanitario, per fortuna, è rientrato. Lo certifica il Ministero della Salute, che ha comunicato, come al termine delle analisi, svolte presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, il paziente, salvato dalla nave della Marina Militare Orione, era affetto, invece, da varicella. Cambiamo argomento, mafia, raffica di condanne nel clan dei Lopiccolo. Il Tribunale di Palermo ha condannato a oltre tre secoli di carcere 26 imputati. Vediamo. Nuovo duro colpo al clan dei Lopiccolo. Il Tribunale di Palermo ha condannato a oltre tre secoli di carcere 26 dei 32 imputati per associazione mafiosa ed estorsione appartenenti al clan palermitano di San Lorenzo. Cinque gli assolti, mentre per uno degli imputati i giudici hanno dichiarato la prescrizione. Le pene più alte sono state inflitte ai capi mafia Salvatore e Sandro Lopiccolo. Il processo, denominato Addio Pizzo 5, nasce dalle indagini della DDA di Palermo sulle estorsioni imposte dalla cosca dei Lopiccolo. Gli assolti sono Isidoro Locascio, Alberto Ebola, Giuseppe Di Maggio, Salvatore Liga e Guido Spina. I reati contestati dai pubblici ministeri vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso all'estorsione, dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al porto e detenzioni illegali d'armi da fuoco e intestazione fittizia di beni. Gli investigatori già nel 2010 accertarono il pagamento del pizzo da parte di imprenditori impegnati in lavori di ristrutturazione dell'aeroporto Falcone Borsellino, nella realizzazione della caserma Bighelli dell'esercito in Viale Strasburgo e di un asilo materno a Cinisi. La Guardia di Palermo ha sequestrato in città e provincia tre ristoranti, un'impresa di costruzioni, villini, terreni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 16 milioni di euro a due persone legate a clan mafiosi. Il provvedimento ha riguardato due fratelli di Torretta, si tratta di Giovanni Angelo e Ignazio Antonino Mannino, di 62 e 57 anni. Tra i beni sequestrati ci sono anche tre famosi ristoranti, il New Parco dei Principi e Manuel El Civoleva. Precari ha su trovato un accordo tra Crocetta e i sovrintendenti dei siti archeologici siciliani, saranno integrati nei musei dell'isola. Vediamo. La prossima settimana i 336 precari ASU saranno assegnati ai vari siti archeologici della Sicilia e andranno così ad affiancare i custodi. Lo ha comunicato il presidente della regione Crocetta al termine di un incontro con il capo di gabinetto della presidenza Gianni Silvia e i direttori generali dei beni culturali e del lavoro. I lavoratori erano stati assegnati ai vari siti archeologici ma a causa della lentezza della burocrazia non avevano ancora preso servizio. C'erano solo problemi di forma giuridica che hanno impedito in questi mesi al Dipartimento e ai beni culturali di prendere a carico il personale. Insomma, sembra che finalmente Crocetta e i sovrintendenti si siano messi d'accordo. Prenderanno subito servizio, ha aggiunto il presidente, verificherò i piani di inserimento lavorativi e dalla prossima settimana saranno trasferiti nei vari siti. Non c'è più alcun ostacolo. Nei mesi scorsi i sovrintendenti siciliani avevano accusato Crocetta di non aver mai inviato loro comunicazione di sollecito per l'inserimento dei lavoratori, sottolineando che la responsabilità è stata della regione e che non vi è mai stato un rifiuto nell'accettare il personale, che invece serve ora più che mai visto che le strutture ne sono carenti. I custodi infatti non riescono più a coprire da soli tutti i turni di lavoro, anche quelli domenicali. E quindi l'arrivo dei nuovi impiegati, sottolineano i responsabili dei siti, è atteso a braccia aperte. Si è insediato questa mattina nel ruolo di direttore generale dell'ASP di Palermo Antonino Candela, 48 anni, laureato in Economia e Commercio, fino a ieri commissario straordinario della stessa azienda. Rimarrà in carica tre anni. Ascoltiamo l'intervista. Continuità rispetto alla gestione commissariale e ulteriore potenziamento dell'offerta sanitaria. La sanità deve essere tra la gente, dovrà essere sempre più presente, un maggior potenziamento dell'offerta sanitaria territoriale. Nei primi 100 giorni rivedere il modello organizzativo dei centri di salute mentale e dei consultori familiari. Daniela Faconti, architetto di Palermo, è il nuovo presidente di AMG Energia SPA. Il nuovo vertice è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in rappresentanza del comune di Palermo. Era presente il vice sindaco Emilio Arcuri. La Faconti è il primo presidente donna di AMG Energia, società che con più di 100 anni di storia, è stata una delle prime aziende municipalizzate d'Italia. A Bagheria Comune, in dissesto finanziario, il consigliere comunale Filippo Tripoli lancia una proposta per ridurre le spese della politica. Vediamo. Ridurre i costi della politica. Il consigliere comunale di Bagheria, Filippo Tripoli, presenterà al presidente del Consiglio Comunale una proposta con soluzioni chiare e fattibili. Nella sostanza, spiega Tripoli, si tratta di un triplice intervento. Il primo riguarda la riduzione del numero dei componenti delle commissioni consigliari, dagli attuali 9 a 5, aumentando il numero di quelle permanenti da 4 a 6. Ciò consentirebbe un tangibile risparmio nelle spese relative alle commissioni, poiché non ci sarebbero consiglieri impegnati in più commissioni. La seconda proposta riguarda il cosiddetto gettone di presenza, 50 euro l'orde per ciascun consigliere, per ciascuna seduta, che dovrebbe essere totalmente sterilizzato e il risparmio conseguente, destinato tramite il bilancio comunale, in parte per dare la massima diffusione ai lavori d'aule e di commissione attraverso tv locali, radio locali e testate giornalistiche online cartacee e bagheresi, al fine di consentire la massima trasparenza dei lavori d'aule e di commissione. Ciò in totale sintonia con quanto è spessamento previsto al programma elettorale dell'attuale maggioranza. Non di meno, l'ulteriore risparmio conseguente potrebbe essere destinato a fini sociali, in base alle esigenze del territorio. Infine, per l'Udc sarebbe opportuno che il sindaco, il vice sindaco e gli assessori riducano la loro indennità, portandola rispettivamente al pari del primo livello retributivo di un dipendente di fascia D, di fascia C e di fascia B del comune. Ciò consentirebbe un concreto risparmio per le casse comunali in termini di minore uscite, concretizzandosi quale cosa ben diversa al foraggiamento di associazioni onlus o cooperative di nuova o vecchia Costituzione. Sono entrate in vigore oggi le nuove tariffe degli abbonamenti AMAT decise dall'Aggiunta Comunale di Palermo lo scorso 17 giugno. L'abbonamento mensile è passato da 48 a 32 euro, quello semestrale da 288 a 165, quello annuale da 459,40 a 300 euro. coloro che opteranno per l'abbonamento annuale, inoltre riceveranno in omaggio anche l'abbonamento al car sharing. Da oggi c'è anche la possibilità di sottoscrivere abbonamenti a tempo che oscillano da 2 a 12 mesi. Parliamo adesso di animali perché come ogni anno con l'arrivo dell'estate si ripresenta anche l'emergenza abbandono. Tantissimi randaggi in molte zone della città. Vediamo. L'estate è arrivata e puntuale come sempre si ripresenta anche il problema dell'abbandono degli animali. Cani e gatti diventano improvvisamente un peso e in vista delle vacanze aumentano sempre di più le famiglie che decidono di disfarsene. A Palermo in particolare il fenomeno di abbandono è in costante aumento. Gli ultimi casi si registrano davanti all'ospedale Cervello dove sono stati ritrovati diversi cuccioli. Altri sono stati abbandonati anche negli spazi di Villa Trabbia. Una pratica disumana che spesso porta alla morte dei poveri amici a quattro zampe. Ad aggravare ancora di più la situazione è l'emergenza canili in città. La struttura municipale rischia il collasso. Già nel mese di aprile scorso i volontari denunciavano le drammatiche condizioni in cui versano queste aree che contano tantissimi animali in esubero. Secondo i dati delle associazioni sono presenti circa 250 cani, oltre 50 in più del previsto. Inoltre i lavori di ristrutturazione sono bloccati da un anno e mezzo anche perché non si riesce a svuotare il rifugio. Ad ogni modo tutto questo non può e non deve in alcun modo giustificare gli abbandoni, ricordando inoltre che oggi tale comportamento è un reato. È vietato ai sensi dell'articolo 727 del codice penale che prevede l'arresto fino ad un anno o un'ammenda da 1000 a 10.000 euro. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e come sempre appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.